Military Beauty Case è un portaset da campo per la vostra igiene personale. Come è fatto? Ha al suo interno delle taschine, anche molto capienti, chiusa a vetro per spazzolini, sapone, shampoo, tutto quello che occorre sapone da barba per igiene personale. Poi ha una tasca grande con dei fuori autosgotanti laterali, d'ambo le parti. All'interno di questa tasca troverete un'ulteriore sacca con cerniera lampo e taschino aggiuntivo sempre con i fuori autosgotanti. Nel suo immediato superiore trovate delle aperture per infilare del materiale, qualora voi riteniate opportuno. metti. Qui sopra, questa cosa, è in realtà uno specchietto a cui va tolta la pellicola protettiva. Lo specchietto ovviamente non è in materiale rangibile, ma in polimero che non si romperà. Questo gancio serve per agganciarlo e tenere lo specchietto pronto all'utilizzo. Il tutto si richiude mettendo dentro il gancio con una cerniera lampo che parte dalla parte superiore e fa tutto il giro fino a chiuderlo completamente trasformandolo in un comodo tasca pane. con una borsettina di facile trasporto. all'intera della campagna è un piccolo. lo specchio è un piccolo. Il tutto si trova al giro ecco, da te viaggiare del secondo. Questo è un piccolo. Grazie.